Aveva chiuso la partita IVA nel 2015, ma non aveva in realtà mai smesso di svolgere l'attività di parrucchiera, riuscendo così ad evadere al fisco ben 250.000 euro, questo quanto scoperto dai finanzieri della compagnia di San Giovanni Valdarno. I controlli erano scattati a seguito di un approfondimento per il mancato rilascio di una ricevuta fiscale ad un cliente, e così dopo un accesso amministrativo effettuato nei mesi scorsi all'interno dei locali dell'esercizio valdarnese, le fiamme gialle avevano avviato l'indagine sulla posizione fiscale della parrucchiera, scoprendo l'attività in nero. La donna, infatti, per ben quattro anni avrebbe svolto il lavoro in maniera completamente abusiva. Gli accertamenti, svolti anche con ricerche nel domicilio della titolare, hanno poi permesso anche di ricostruire gli introiti che la parrucchiera, negli ultimi quattro anni, avrebbe omesso di dichiarare al fisco oltre 250.000 euro tra imposte dirette, IVA ed altri tributi. Il servizio delle fiamme gialle di San Giovanni Valdarno rientra nel più ampio ambito delle azioni a contrasto delle varie forme di evasione fiscale che altrano gravemente la concorrenza, danneggiando gli operatori economici che agiscono correttamente. Grazie.